Un rave party non autorizzato nel comune di Fossombrone all'interno dell'area naturale paesaggistica dell'Oasi del Furlo e quanto scoperto dai carabinieri di Fanoieri all'interno di un capannone di una cava di smessa. Un rave consumatosi fra la notte di sabato e la tarda mattinata di domenica al quale hanno preso parte 136 persone d'età compresa fra i 18 e 60 anni, tutte denunciate in stato di libertà alla stazione dei carabinieri di Fossombrone. Secondo gli stessi carabinieri il rave si è svolto con gravi pericoli per la salute e la sicurezza pubblica considerate anche le forti precipitazioni meteo. La maggior parte dei partecipanti proveniva dai comuni limitrofi ma si sono registrate anche presenze da tante altre regioni italiane e persino dalla Francia. Ricevuta la segnalazione del rave i carabinieri intervenuti in forze con equipaggi da Pesaro, Fano e Urbino hanno circoscritto l'area e identificato i vari partecipanti. È intervenuto anche il personale della questura sgomberando la zona senza incidenti e rilevando un cospicuo abbandono di rifiuti. Nei confronti dei due organizzatori del rave si è proceduto anche con il sequestro penale di tutta l'attrezzatura utilizzata come casse audio o gruppi elettrogeni.